Musica Etg più today buongiorno e ben ritrovati con la nostra trasmissione come sempre in primo piano le notizie che riguardano gli esteri, la cronaca, la politica e l'attualità, il viaggio della premier a Giorgia Meloni in India dice che l'India può falicilitare una pace giusta con l'Ucraina. Andremo poi a leggere ed approfondire le parole del presidente del Consiglio Meloni e poi ancora parole che ci riportano dunque al conflitto in Ucraina perché stiamo assistendo nuovamente ad una escalation della guerra. Raida zaporisce a tre morti, il presidente ucraino Zelensky dice un atto di terrore, morti anche dei civili e poi ancora tornando in Italia alla polemica politica che riguarda l'ultimo drammatico naufragio di Crotone. Non si placa il dibattito interno alla maggioranza ma anche le accuse dell'opposizione rivolte alle parole pronunciate dal ministro per quanto riguarda appunto la vicenda che riguarda l'ultimo sbarco sulle coste calabresi. E poi lo vedete in primo piano del Corriere della Sera.it invece l'inchiesta che ci riporta alla pandemia, l'inchiesta di Bergamo, Covid, si potevano evitare 4.000 morti, Conte, Speranza, Fontana e Brusaferro indagati per epidemia colposa. L'ex premier a Conte dice sono sereno la ricostruzione, giorni di rinvi sulla zona rossa. E poi degli articoli di approfondimento ovviamente che riguardano l'inchiesta Covid, la mancata zona rossa a Bergamo, cos'è accaduto davvero, miozzo, lavorato senza sosta, ora provo solo amarezza. E poi ancora le parole di Fontana, vergognoso, scoprire dai giornali di essere indagato. E subito dopo appunto il bilaterale in India, le notizie che riguardano ancora una volta i missili, gli attacchi su Zaporiscia. E come vi dicevo anche il dibattito interno, appunto le parole dure dell'opposizione nei confronti del ministro, piantedosi subito dopo l'ultimo drammatico naufragio avvenuto sulle coste italiane. Ma come sempre accade oggi la nostra finestra sul territorio lombardo si apre da Milano, dove c'è collegata Silvia Legnani. Sì, buongiorno Vittoria, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ci troviamo qui davanti allo stadio Meazza di San Siro a Milano. Siamo qui perché continua la discussione sul futuro dello stadio, dell'impianto sportivo. Qua proprio sulla prima pagina milanese del Corriere della Sera, appunto in primo piano la Maura, il dribbling del Milan. Trattative in corso sul Meazza, ora incombe anche il rischio di un vincolo dal 2025. Cardinale incontra sindaco e governatore e sul nuovo stadio il club è al lavoro per ottenere la variante. L'Inter punta su un'area di Rozzano, appunto si parla dell'incontro lampo avvenuto tra il proprietario del Milan Cardinale, l'amministratore delegato Furlani e il sindaco Sala, appunto sul futuro dello stadio. Ne parleremo tra pochi minuti con l'ecologista milanese Fiorello Cortiana. Ho con me appunto il Corriere della Sera, quindi diamo anche un rapido sguardo alle notizie, ai titoli della prima pagina. Errori e omissioni, naufraghi senza soccorsi. Si parla appunto della tragedia che ha causato la morte di 67 migranti in Calabria. Emergono appunto errori e omissioni gravi, tensione sul ministro Piantedosi e Schlein, nuovo segretario del Partito Democratico, chiede che si dimetta. Ma Tarella oggi a Crotone, si recherà oggi al Palasport di Crotone dove sono allineate le bare per dare una testimonianza di rispetto e cordoglio alle vittime. E poi sempre in primo piano il Covid, indagati eccellenti sotto accusa anche Conte, Speranza e Fontana. L'ex premier si dice tranquillo, i PM di Bergamo parlano di epidemia colposa. La perizia dice si potevano evitare oltre 4.000 morti. E poi ancora si parla del super bonus, cresce il deficit, Giorgetti dice era una droga. Il super bonus infatti presenta il conto, 120 miliardi di credito d'imposta si sono scaricati sul deficit pubblico negli ultimi tre anni. E poi ancora benzina e diesel, un fronte di paesi contro il blocco. Lo stop dal 2035 alla vendita in Europa di auto a benzina e diesel torna in discussione. E infine il caffè di Gramellini torna a parlare della tragedia in Calabria, dello sbarco dei migranti e dei naufraghi senza soccorsi. Quindi tra pochi minuti ci troveremo appunto con il nostro ospite e ti richiederò la linea. Grazie Silvia e lo abbiamo sentito anche dall'edizione cartacea del Corriere della Sera. Ancora tiene banco il dibattito, le tensioni all'interno della maggioranza ma non solo un dialogo acceso molto forte, una discussione molto forte tra le opposizioni e la maggioranza, in particolare la richiesta di dimissioni da parte del ministro Piantedosi per quanto accaduto sull'ultimo naufragio sulle coste calabresi. Allora diamo rapidamente uno sguardo ai titoli di quelle che sono invece le edizioni online dei principali quotidiani italiani. Lo abbiamo visto la pandemia, l'inchiesta sulla pandemia in primo piano del Corriere della Sera. Si potevano evitare 4.000 morti, Conte, Speranza, Fontana e Brusaferro indagati per epidemia colposa. E poi ancora sull'Ansa invece un aggiornamento per quanto riguarda la guerra Raid a Zaporiscia, tre morti, Zelensky, un atto di terrore. La Forza Lady Zelenska dice colpiti civili filorussi replicano condominio centrato dalla contraerea ucraina. Sono oltre 150.000 soldati russi uccisi dall'inizio dell'invasione russa, lo ha annunciato lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev. E subito sotto ancora gli esteri però con la notizia che riguarda il viaggio del Premier Meloni, l'India può facilitare una pace giusta in Ucraina. Il primo ministro Modi dice pronti a contribuire. Poi ancora siamo su Repubblica. In primo piano invece le parole ancora una volta centrate sul naufragio, la strage dei migranti, Salvini sotto assedio per il mancato soccorso e anche da Palazzo Chigi. Dubbi sulla linea dura. Andiamo su open.online. In primo piano la spericolata ordinanza del GIP di Crotone sulla strage di Cutro. Ora l'Italia scopre altri esotici viaggi per Cotrone. Appunto un'ordinanza che sta facendo discutere, sta ulteriormente creando tensioni e dibattito all'interno della politica. Allora torniamo alla notizia che riguarda il viaggio in India di Meloni, un viaggio, una missione anche per cercare di allacciare rapporti costruttivi per un fine, un fine che è quello occidentale, cercare di fermare appunto la guerra in Ucraina. Meloni dice l'India può facilitare la strada per una pace giusta in Ucraina. Modi conosce la posizione italiana di pieno sostegno all'Ucraina. Condividiamo l'auspicio che l'India, in qualità di presidente del G20, possa avere un ruolo per facilitare un percorso verso la cessazione delle osterità e una pace giusta. Lo ha detto appunto a Nuova Delhi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo il bilaterale con il primo ministro italiano. E ancora, sin dall'inizio del conflitto ucraino, l'India ha detto che la questione si può risolvere solo con dialogo e diplomazia. L'India è prontissima a contribuire a qualsiasi progetto per la pace. Queste appunto le parole che afferma il primo ministro indiano dopo il bilaterale. Vedremo se poi effettivamente ci saranno risvolti positivi in questo senso. Per quanto riguarda invece la questione, l'inchiesta Covid, un salto indietro nei primi giorni, i primi giorni di terrore, quando appunto ancora stavamo parlando di zone rosse per fermare l'avanzata dei contagi, un'inchiesta Covid a Bergamo, Conte, Speranza e Fontana indagati proprio per questo, per la mancata zona rossa. Chiusa l'inchiesta sulla mancata zona rossa del 2020, si potevano evitare oltre 4.000 morti, una ventina sotto accusa. Bergani morti di Covid venivano portati verso i forni crematori di altre città con i mezzi militari. Tanti erano e queste immagini sono le immagini che tutti ricordiamo. Quelli certificati dopo un tampone positivo furono 3.100 tra fine febbraio e la fine di aprile 2020, ma nello stesso periodo i decessi complessivi in tutta la provincia furono oltre 6.000, di cui più di 5.100 soltanto nel mese di marzo. La foto dei camion è la più rappresentativa. La pandemia era così imprevista, imprevedibile, senza che si potessero risparmiare vite. No, secondo la Procura di Bergamo, che ha chiuso l'inchiesta per 17 indagati con la principale ipotesi di epidemia colposa per l'allora Premier Giuseppe Conte e l'ex Ministro della Salute Roberto Speranza. Gli atti sono diretti a Brescia, al Tribunale dei Ministri. Per gli altri qualcosa andrà a Roma, ma il centro dell'inchiesta resterà a Bergamo. Tra gli indagati ci sono il Presidente della Regione Lombardia, appena confermato, Attilio Fontana, l'ex Assessore al Welfare Giulio Gallera, lo sono anche il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, l'allora coordinatore del primo comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo, l'allora capo della protezione civile Angelo Borrelli e ancora il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, anche l'ex capo della prevenzione del Ministero della Salute Claudio Damario e l'ex segretario generale Giuseppe Ruocco, responsabile delle malattie infettive Francesco Maraglino. Si è perso tempo, si è sottovalutato il rischio, sono convinti i PM, questo appunto quello che è scritto all'interno dell'articolo del Corriere della Sera. Secondo il loro consulente Andrea Crisanti, si sarebbero risparmiati oltre 4.000 morti, precisamente 4.148 con una chiusura appunto della balsa ariana dal 27 febbraio. E questo appunto sono in particolare quello che sta emergendo, le prime notizie poi all'interno appunto del Corriere ci sono una serie di approfondimenti, anche le parole dei principali protagonisti della vicenda, appunto l'ex premier Giuseppe Conte che dice sono sereno. Ma vedo collegata con noi Silvia, alla quale ripasso la linea. Sì, ecco Vittoria, come ti anticipavo siamo qui con il nostro ospite Fiorello Cortiana, ex senatore per due mandati dei Verdi Lulivo e ecologista di Milano. Buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ci troviamo qui davanti allo stadio Meazza di San Siro a Milano. La discussione sul futuro di questo stadio prosegue ormai da diversi anni. Sì, prosegue da diversi anni, non è stata data parola ai cittadini con un referendum articolato che avevamo proposto, è stato fatto un dibattito pubblico che sostanzialmente è stato un esercizio di informazione da parte delle due società e non una verifica delle fattibilità concrete innanzitutto della riqualificazione dello stadio che il Politecnico con un studio durato un anno e un rapporto con l'UEFA costante ha dimostrato assolutamente riqualificabile in modo multifunzionale. La verità è che gli interessi legati ai fondi proprietari delle due società Milan e Inter sono quelli di mettere nella propria tasca come asset l'edificabilità non solo di un nuovo stadio ma di tutte le volumetrie intorno allo stadio. Questo però ha anche un problema di impatto ambientale oltre al fatto di far venire meno una realtà storica che ha un'identità molto importante. Spieghiamo cosa sta succedendo in questi giorni. I due club, Rosso Nero e Nero Azzurro, stanno pensando a un piano B rispetto al piano A che era quello di riqualificare lo stadio Meazza. Il piano B sarebbe quello di individuare due aree, due aree diverse per costruire dei propri stadi. Quindi il club Rosso Nero vuole andare verso il territorio della Maura, appunto all'Ippodromo che però è un territorio vincolato. Al momento il territorio nel PGT, nel piano generale del territorio di Milano a verde e quindi dovrebbe in ogni caso, laddove anche Sala volesse consentire a condiscendere a questa scelta e pare che accondiscenda a qualsiasi indicazione che danno le due proprietà fondiarie occorrebbe di nuovo tutto un percorso consigliare anche di dibattito pubblico come abbiamo fatto per questo stadio. Ecco, qui si parla appunto di un accordo tra Regione Comune e Milan per superare i vincoli appunto sull'area dell'Ippodromo che è parte integrante del Parco Sud. È parte integrante del Parco Sud, recentemente la Regione con un colpo di mano l'ha tolto alla città metropolitana che il sindaco Sala dovrebbe ricordare di essere anche il sindaco della città metropolitana e quindi quando si parla di realtà fuori Milano per fare lo stadio che sia Sesto, San Zonato o Rozzano forse lui dovrebbe preoccuparsi di un equilibrio complessivo per gli aspetti di traffico, congestione e inquinamento. Ecco appunto perché invece il club nero-azzurro l'ipotesi è quella di andare verso Rozzano. L'ultima è Rozzano ma ne sentiamo sostanzialmente uno al giorno di questo tipo di proposte. in realtà il Consiglio Comunale è sostanzialmente esautorato di qualsiasi possibilità. Quando ha potuto prendere la parola ha dato delle indicazioni che in ogni caso le due squadre hanno ritenuto inaccettabili, tant'è che si sono messe a parlare di nuove ipotesi e di nuove localizzazioni per gli stadi. Che cosa si dovrebbe fare? Secondo lei il Comune dovrebbe prendere in mano la palla? Secondo me il Comune dovrebbe fare una gara internazionale per la gestione di San Siro e dovrebbe prendere in considerazione seriamente il lavoro del Politecnico per una riqualificazione multifunzionale. Ricordiamo che questo è lo stadio dove verranno inaugurate le Olimpiadi Milano-Cortina. È lo stadio che ospiterà già a quest'estate i concerti nazionali e internazionali degli artisti più importanti e dei gruppi più importanti. È lo stadio dove Milan e Inter giocano le partite di Champions. Quindi non stiamo parlando di qualcosa di vetusto, stiamo parlando di un manufatto articolato molto importante con un'identità internazionale enorme. Esatto, quindi anche l'aspetto emotivo da parte dei tifosi è da tenere in considerazione. Sì, torno allo sport indubbiamente ci sono le maglie e ci sono i luoghi. Gli stadi sono parte di questa realtà che è una realtà con implicazioni anche identitarie e romantiche. Per qualcuno possono essere retoriche, ma in realtà è ciò che tiene legati i cittadini a una squadra, a un luogo per noi in Milano-San Siro. Ecco, lei che è residente qui a Milano, qual è il sentore del quartiere dei cittadini in merito a questa discussione attorno allo stadio? Ma c'è una preoccupazione molto forte dei cittadini che abitano nell'area circostante perché si sentono calati sulla testa di volta in volta, prendendolo dei giornali proposte senza avere una voce vera di partecipazione. Il dibattito pubblico non è stato, lo ripeto, un dibattito pubblico rispondente ai criteri che il dibattito pubblico sul piano normativo nazionale prevede. Sul piano cittadino all'inizio, secondo me, l'opinione pubblica pensava se per andare a vincere la Champions occorre uno stadio nuovo, va bene lo stadio nuovo. Credo che molti si stiano ricredendo perché si rendono conto che ogni giorno ne esce una nuova da parte di queste società e peraltro non è stata data ancora risposta all'interrogazione di un consigliere comunale della Commissione Antimafia sulla proprietà azionaria effettiva dei fondi di Milan e Inter. E non è stato dato a ASM Global, una società che organizza eventi, innanzitutto musicali, ma non solo, che si propone di gestire lo stadio riqualificato e ristrutturato. Il Comune di Milano non ha ancora dato la documentazione tecnica che è stata chiesta per avanzare una proposta. Ecco, ieri il sindaco Sala ha incontrato Emanuela Carpani, soprintendente alle Belle Arti milanesi. È emerso che insomma sullo stadio Meazza ad oggi non c'è alcun vincolo, però dal 2025, quando ricorreranno i 70 anni dalla fine dei lavori del secondo anello, potrà esserci questa ipotesi appunto, potrà essere vincolata. Sì, la soprintendente ha dato atto di qualcosa che nella norma saranno passati i 70 anni e quindi scatta le possibilità di vincolo. Io credo che al di là dell'aspetto di vincolo come tutela diciamo difensiva, invece l'idea del Politecnico, la proposta di riqualificazione multifunzionale del manufatto esistente risponda anche alla storia di San Siro, che è fatto da tre stadi che si sono succeduti in una armonia e in una coerenza straordinaria. Peraltro abbattere questo stadio avrebbe dei costi enormi e delle implicazioni di impatto ambientale enormi, perché la struttura è una struttura molto pesante, peraltro fatta per resistere a qualsiasi bombardamento e terremoto. Gli ingegneri che l'han progettato hanno detto questo con anche orgoglio. Che cosa prevede questa riqualificazione? Questa riqualificazione prevede che il terzo anello diventi una specie di balconata circolare su Milano multifunzionale e questo mi sembra molto importante, oltre a un lavoro complessivo di ristrutturazione. Ecco, perché secondo lei si è passati dal piano A che prevedeva la riqualificazione di questo stadio a questi piani B proposti dai club? Secondo me si è passati a questo perché davano per scontato che la condiscendenza del sindaco desse luogo a degli automatismi di decisioni di tempi. In realtà ci sono delle regole, delle procedure che vanno rispettate e che prescindono anche dai poteri, diciamo che la legge elettiva diretta dei sindaci dà ai sindaci. Lei che cosa si aspetta ora? Cosa potrebbe succedere? Io mi aspetto che il fatto che queste proprietà effettive delle società non siano chiare e trasparenti, con questa lunghezza di tempi, non trovino interessante mettere sul mercato fondiario internazionale un nodo così importante come Milano con questo tipo di speculazioni di valore nominale con tutte le edificazioni attorno. Io mi auguro che ci sia una rispiscenza da parte del sindaco Sale, voglia finalmente fare sindaco e bandire una gara internazionale sulla gestione riqualificata dello stadio di San Siro. Ecco, la discussione va avanti da anni, quali saranno secondo lei i tempi adesso? Ma adesso in ogni caso lo stadio meriterà una riqualificazione perché dovranno inaugurarci le Olimpiadi Milano-Cortina nel 2026 e quindi c'è questo aspetto. Arriveranno i 70 anni e quindi io credo che stia maturando una consapevolezza di far tesoro di quello che si ha da buoni milanesi. Grazie, grazie al nostro ospite per essere stato con noi. Vittoria, se non ci sono domande dallo studio, io ci restituirei la linea per il momento. Grazie, volevo sapere dal tuo ospite, visto che è una discussione che va avanti da tempo, l'avete illustrata anche in maniera dettagliata. Quali azioni concrete però i cittadini possono fare in questo momento per intervenire in questo dibattito? Ci sono ricorsi, ci sono esposti che sono stati fatti e si cerca costantemente, abbiamo usato il dibattito pubblico per intervenire, le occasioni di dibattito decentrate sono state assolutamente relative. Noi dobbiamo pensare che se uno fa un nuovo stadio qua vicino alla Maura e tutte le edificazioni attorno, le funzioni allocate lì non interesseranno soltanto i cittadini che abitano qua attorno e si affacciano, ma interesseranno anche i comuni limitrofi di Milano e le zone adiacenti. Nessuna di queste realtà che ho citato è stata interessata e coinvolta in una riflessione. Quindi lei parla anche del piano viabilistico, insomma, del caos che si potrebbe creare tutto intorno. Ci sono funzioni, c'è da gestire tutto questo in una città che per le sue condizioni morfologiche ha a tutt'oggi il tasso più alto di affezione alle vie respiratorie dei bambini di tutta Italia. Anche perché si creerebbero due stadi in più, insomma. Ci sarebbero due stadi in più e questo è un problema molto grande. Il fatto che questo stadio di per sé ha dei costi per il Comune rende ancora più necessaria una gara internazionale per la gestione dello stadio. E ASM Global l'ha proposto, ma se non gli danno neanche la documentazione richiesta non si capisce cosa voglia fare davvero il Comune se non a secondare i fondi internazionali proprietari di Milano e Inter. Grazie a voi. Grazie Silvia, grazie al tuo ospite. Noi cambiamo totalmente argomento perché tra le notizie di attualità della giornata ovviamente si torna a discutere del nafraugio, dell'ultimo tragico sbarco appunto di migranti. Oggi atteso Mattarella sarà presente anche Ellis Line all'omaggio delle vittime del naufraggio che ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone ed un numero ancora imprecisato di dispersi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è atteso nella giornata di oggi a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufraggio dell'imbarcazione su cui viaggiava un gruppo di migranti. Il naufraggio ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone e lo abbiamo visto, un numero ancora imprecesato però di dispersi. Della visita del Presidente Mattarella di cui mancano al momento i particolari si è preso da fonti locali, scrive l'Ansa.it. Il capo dello Stato, secondo quanto sia preso, si dovrebbe recare al Palasport dove sono allineate le bare delle vittime del naufraggio per la Camera Ardente. Anche la segretaria del Partito Democratico, Ellie Schlein, oggi sarà a Crotone insieme ad una delegazione di parlamentari de Mank. Schlein si recherà al Palamilone, non rilascerà dichiarazioni alla stampa comuniche in una nota appunto il Partito Democratico. E' tanto appunto un video a corredo dell'articolo a Crotone il giorno del dolore e della preghiera. Purtroppo l'ultimo soltanto fatto di cronaca che ha poi dilaniato, come spesso accade quando si parla in particolare di questi fatti, la politica. Non soltanto però la maggioranza interna che respinge appunto le accuse di non aver agito per salvare questi migranti dal mare e dall'alta però le opposizioni che attaccano e chiedono le dimissioni del ministro Piantedosi. Siamo sul Corriere della Sera con un articolo appunto che riguarda la posizione della premier italiana Giorgia Meloni che respinge le accuse sul naufragio e dice ma nel governo resta il malessere su Piantedosi. La premier difende il Viminale al rimpallo di responsabilità tra i ministri dell'interno del Tesoro da cui dipende la Guardia di Finanza e dei trasporti a cui fa capo invece la Guardia costiera e le capitanerie, compatte e agguerrite come mai prima le opposizioni chiedono la testa di Matteo Piantedosi anche nel governo e nei partiti di maggioranza, fratelli d'Italia in primis, è forte il fastidio per come il Viminale ha reagito alla tragedia del naufragio in Calabria. Eppure l'ordine di scuderia di Palazzo Chigi è blindare il responsabile dell'interno anche perché toccare la sua poltrona vorrebbe dire sconfessare l'azione dell'esecutivo su un tema chiave quale appunto quello della gestione del fenomeno migratorio. Le immagini del palasporto di Crotone con i peluche e giocattoli posate sulle casse di legno bianco che chiudono per sempre i corpi dei bambini annegati hanno scioccato tutti. La Premier nella lettera all'Unione Europea si è detta sconvolta ma non vuole mostrare irritazione alcuna verso il ministro nella bufera. Piantedosi alla mia piena copertura e solidarietà è la linea di Giorgia Meloni nei giudizi a mezza bocca che rimbalzano tra Palazzo Chigi e gruppi parlamentari dove si respira forte imbarazzo. Piantedosi è descritto come un burocrate che non sa tenere i nervi saldi. Chi lo ha ascoltato durante il dibattito nella Commissione Affari Costituzionali della Camera lo ha visto molto preoccupato per possibili indagini della magistratura oltre che per le reazioni politiche che abbiamo visto, reazioni politiche molti forti un'opposizione stavolta compatta nell'affrontare questa materia e in particolare chiedere comunque, capire meglio cosa sia accaduto nella dinamica del salvataggio. Voci critici che si sono alzate anche in maggioranza. Il senatore Alberto Balboni di Fratelli d'Italia ha chiesto di fare piena luce perché non si può lasciare una nave piena di bambini in balia delle onde ma Meloni tiene distinto il partito dal governo e difende Piantedosi. Se la Presidente ha un disagio non riguarda l'azione del Prefetto quanto la reazione delle opposizioni e l'accusa per Meloni irricevibile che la responsabilità dei 67 morti di Cotro ricada. Sulle istituzioni parlare di strage di Stato è vergognoso, respinge gli attacchi la Premier se quelle persone si fossero potute salvare sarebbero state salvate come è sempre accaduto. Le parole con cui il comandante della Capitaneria di Porto di Crotone, Vittorio Aloi, si è difeso dalle accuse su ritardi nei soccorsi hanno scatenato lo scarico a balire tra i ministeri coinvolti. Se è vero che qualcosa nella catena di comando non ha funzionato, di chi è la responsabilità? Quando Aloi ha detto che sarebbe toccata la Guardia di Finanza intervenire per prima e che c'erano le condizioni per salvare i migranti, ha acceso i riflettori sul tesoro. E il problema per i rapporti interni al governo è che in via 20 settembre c'è Giorgetti, numero 2 della Lega e ai Trasporti, cui la Guardia Costiera e le Capitanerie fanno capo. C'è Salvini, il Vice Premier furioso con chi se la prende con la Guardia Costiera ma non si affanna a difendere piante e dosi. Ad agitare gli animi è anche la notizia che oggi il Presidente Mattarella sarà in Calabria per rendere omaggio alle vittime, lo abbiamo letto poco fa. La Premier invece è volata in India e a ritorno, per quanto pensi che il Capo dello Stato faccia benissimo ad andare, non ha in programma di recarsi sulle coste del disastro. Lo ha già fatto piante e dosi in rappresentanza del governo a Palazzo Chigi. Si attende un'ondata migratoria senza precedente, il sottosegretario Mantovano presentando la relazione annuale dell'intelligence ha fatto capire che quanto la preoccupazione sia forte per la Premier fermare l'immigrazione irregolare resta la priorità e ancora la strategia programmare gli ingressi secondo le necessità e la possibilità di garantire una vita dignitosa. I numeri dell'immigrazione irregolare attraverso i decreti flussi sono destinati a crescere ma non arriveranno mai ai 500 mila evocati dal Ministro Lollobrigita. Quel mezzo milione è il fabbisogno dei lavoratori stimato dalle associazioni datoriali. Insomma abbiamo iniziato a comprendere che è un duro sconto che proseguirà probabilmente anche nelle prossime ore e oggi comunque è un segnale molto forte la visita in queste ore del capo dello Stato Sergio Mattarella sul luogo del disastro, una visita per rendere ovviamente omaggio alle vittime del naufragio. L'abbiamo visto 67 al momento le vittime accertate ma appunto il numero sembra destinato a salire perché si cercano ancora altri dispersi. Non sarà presente invece la Premier a quanto sembra Giorgia Meloni di ritorno appunto dalla bilaterale in India ma è una situazione davvero complicata per il governo in questo momento sotto la lente lo abbiamo visto il Ministro Piantedosi per le sue dichiarazioni ma anche si cerca di capire cosa è accaduto, come sono intervenuti i soccorsi e la domanda principe, la domanda che resta sospesa se si poteva fare qualcosa di più se cosa è accaduto in quelle drammatiche ore e chi sarebbe dovuto intervenire in quel momento per cercare di portare sulla costa i migranti. E ancora torniamo sull'Ansa per un aggiornamento che riguarda invece l'economia con i dati Istat gli occupati oltre 23 milioni ma più giovani senza lavoro a gennaio il tasso di disoccupazione sale al 7,9% più 0,1 punti sul mese di dicembre scorso e ancora quello giovanile al 22,9% più 0,7 punti prosegue dunque l'aumento degli occupati che arriva a superare 23 milioni e 300 mila però lo vedete gli occupati oltre 23 milioni ma più giovani senza lavoro tra pochissimo andremo appunto a capire di cosa si tratta quali sono gli ultimi dati economici che arrivano sul fronte occupazionale e torneremo però ancora a parlare di migranti con numeri, tendenze, rapporti e cosa è accaduto durante quest'ultimo anno sulle nostre coste subito dopo la pubblicità E TGP Today di nuovo insieme allora prima di commentare le ultime notizie e gli aggiornamenti che riguardano la giornata facciamo il punto sulle notizie relative al traffico con la rubrica Info Viabilità in collaborazione con ANAS Tre segnalazioni tutte che riguardano la statale 12 della Betone del Brennero la prima riguarda la riduzione di una carreggiata a causa dei lavori a partire dal 13 marzo fino al 28 aprile tra incrocio Vipiteno e incrocio Vipiteno con la statale 508 di Val Sarentino e ancora restiamo quindi sulla statale 12 riduzione di carreggiata ancora a causa dei lavori questa volta a partire dalla mezzanotte del 20 e fino alla mezzanotte del 24 marzo tra incrocio Colle Isarco e incrocio Brennero e infine ancora sulla statale della Betone del Brennero lavori di manutenzione dopo incrocio Medolla e la statale 468 di Correggio e prima di incrocio Roncanova per restare informati e avere aggiornamenti in tempo reale è possibile consultare il sito stradeanas.it o chiamare il numero verde gratuito pronto ANAS 808 41 148 e lo abbiamo visto oggi tra i temi della giornata lo scontro politico che riguarda l'ultimo drammatico naufragio sulle coste italiane ancora fronte unito compatto dall'opposizione che chiede le dimissioni del ministro Piantedosi dall'altra la difesa invece dell'operato del governo da parte della premiera Giorgia Meloni intanto si cerca di capire cosa è accaduto in quelle drammatiche ore lì che fosse la responsabilità di quanto stava accadendo ma ancora la guerra in Ucraina il viaggio bilaterale in India della premiera Giorgia Meloni che dice dall'India una strada per una pace giusta nei confronti dell'Ucraina intanto non continuano appunto continua la guerra questa è cosa ovviamente oramai nota ma si assiste ad una nuova escalation ancora una volta un attacco russo su Zaporiscia le parole del presidente ucraino Zelensky che dice atto di terrore ancora colpiti i civili intanto i filorussi replicano condominio colpito dalla contraerea ucraina in Mosca la Russia e la Cina respingono ricatti e minacce poi lo vedete la foto sopra della Meloni con il primo ministro Modi appunto l'Italia l'India può facilitare una pace giusta in Ucraina intanto si cerca quindi di riuscire a tessere una rete per tentare in qualche modo di arrivare ad una soluzione di pace torniamo sul Corriere della Sera in primo piano anche un'altra notizia che ci riporta ai primi giorni della pandemia nel 2020 il covid si poteva evitare si potevano evitare 4.000 morti Conte, Speranza, Fontana e Brusaferro indagati per il mia colposa le parole dell'ex premier Conte che dice sono sereno e poi ancora gli articoli correlati appunto all'inchiesta covid l'inchiesta sulla mancata zona rossa a Bergamo cosa è davvero accaduto Miozzo dice ho lavorato senza sosta ora provo soltanto amarezza e poi le parole del governatore Lombardo Fontana vergognoso scoprire dai giornali di essere indagato e poi lo vedete la ricostruzione vi abbiamo detto di inviare i nostri mezzi no criticità i report di finanza e guardia costera viaggi esotici alla volta di Crotone l'ordinanza shock del giudice che convalida l'arresto degli scafisti l'aereo di Frontex che per prima ha visto il barcone l'allarme doveva darlo l'Italia ecco c'è poca chiarezza anche per come si sono svolti i fatti in quelle ore in quelle lo sottolineano nuovamente in quelle drammatiche e ore e adesso si cerca di ricostruire la dimamica si cerca di capire quali erano i ministeri interessati da questa drammatica vicenda torniamo a Milano da Silvia Sì Vittoria siamo qui con una cittadina residente appunto in zona San Siro che cosa pensa di tutta questa discussione che dura ormai da anni? Per me è giusta cosa fare anche due stadi separati perché è bello che ogni tifoso abbia un suo stadio perché se questo non può essere riqualificato è giusto che si faccia anche altre idee non teme un po' ripercussioni anche sulla viabilità di tutta la zona di tutta l'area metropolitana anche perché appunto si parla anche di altre zone quindi di Rozzano dell'area dell'Italia ma ormai tanto Milano comunque con i mezzi è abbastanza fornita penso che poi ci sono comunque come si dice la polizia locale che quando anche si fanno i concerti mettono giù comunque transenne limitano l'area tanto le partite non è che sono tutti i giorni Lei mi ha detto è interista Io sono interista Ecco che cosa significa per voi tifosi lo stadio di San Siro è anche una questione identitaria diciamo emozionale Sì però ok la storia rimane lo stadio è il simbolo comunque di tante partite anche di tanti concerti perché io sono anche una fan di Vasco e quindi abbiamo fatto anche tanti concerti qui a San Siro è sempre stata un'emozione grande San Siro regala sempre emozioni però affezionarsi secondo me anche un po' lasciare il ricordo di quello però bisogna anche fare tante novità che saranno comunque belle e emozionanti lo stesso secondo me Grazie, grazie Vittoria ti restituisco per il momento la linea tra poco con altri cittadini Grazie Noi continuiamo a leggere gli aggiornamenti ovviamente le prime pagine dei quotidiani online sono sulla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Crotono ovviamente l'omaggio alle vittime lo ripetiamo 67 quelle accertate ma si cercano altri dispersi in mare siamo su Repubblica in primo piano la diretta intanto e l'ammiraglio della Guardia Costiera salvare vita era il nostro vanto poi la politica ha fermato tutto Mattarella e anche la neosegretaria del PD Ellie Schlein saranno appunto a Crotone torniamo andiamo ancora avanti su open.online lo vedete la spericolata ordinanza del GIP di Crotone questo è il titolo d'apertura sulla strage di Cutro ora l'Italia scopre altri esotici viaggi per Crotone tra sarcasmo e termini aulici il magistrato ha convalidato l'arresto per due sospetti scafisti siamo sull'Ansa in primo piano lo abbiamo anticipato prima i dati dell'Istat relativi appunto alla disoccupazione gli occupati oltre 23 milioni ma più giovani senza lavoro a gennaio il tasso di disoccupazione sale al 7,9% più 0,1 punti su il mese di dicembre scorso quello giovanile al 22,9% invece aumenta perché più 0,7 punti prosegue l'aumento degli occupati che arriva a superare i 23 milioni e 300 mila Crotone il giorno del dolore lo abbiamo visto attesa la visita di Mattarella il Presidente della Repubblica rende omaggio alle vittime del naufragio che ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone ed un numero ancora imprecisato di dispersi si recherà appunto a rendere omaggio alle vittime anche la neopresidente del Partito Democratico Ellie Schlein ma io do il buongiorno e il benvenuto a Livia Elisa Ortenzi responsabile del settore statistica ISMO buongiorno professoressa grazie per essere qui allora partiamo subito aumentano gli sbarchi sulle coste italiane il 55,8% in più rispetto al 2021 ma la loro composizione cambia si è assistito nel corso dell'anno precedente ormai del 2022 i flussi maggiori provengono soprattutto da Egitto e Tunisia causati prevalentemente ovviamente dalla crisi economica e quanto emerge dal 28esimo rapporto sull'emigrazione di fondazione ISMO allora le chiedo cosa è cambiato a cosa stiamo assistendo in questo a cosa abbiamo assistito durante quest'ultimo anno anche alla luce dell'ultima strage dell'ultimo drammatico naufragio accaduto appunto pochi giorni fa sulle coste italiane allora intanto dobbiamo distinguere secondo me proprio il caso dell'ultimo naufragio da quello che è il quadro generale perché la rotta calabrese è qualcosa di diverso da quello che noi siamo abituati un po' a commentare quindi da una parte abbiamo sicuramente i paesi della sponda sud del Mediterraneo che sono andati molto in crisi in seguito alla pandemia e poi all'innalzamento del prezzo del grano e questo ha fatto sì che le persone abbiano ricominciato a prendere la via del mare per arrivare in Europa tanto è vero che per la prima volta abbiamo avuto gli egiziani tra i principali nazionalità di partenza e rimangono i tunisini da parecchi anni come primi arrivi prima della pandemia era un mondo diverso arrivavano persone prevalentemente dall'Africa subsahariana oggi le persone che arrivano dall'Africa subsahariana abbiamo la percezione che siano anche migranti che erano in precedenza in Tunisia perché anche la Tunisia e l'Egitto sono paesi di immigrazione e che proprio a seguito della crisi economica stanno anche loro venendo in Europa quello che invece abbiamo visto nel tragico nautaggio sulle coste calabresi è la rotta che invece ha cominciato a originarsi da almeno un paio d'anni stiamo vedendo crescere il numero di arrivi sulle coste calabresi e sono dovute alla chiusura delle frontiere a una enorme riduzione delle possibilità di richiedere asilo in Grecia la Grecia è un passaggio uno snodo centrale dopo la Turchia verso la rotta balcanica e verso l'Europa la Grecia ha cominciato a fare delle politiche molto muscolari di respingimento ha costruito muri le persone rispondono a questo tipo di policy cambiando strada e quindi invece di provare ad entrare in Grecia prendono una barca e arrivano vanno in Italia la composizione però di questi flussi è diversa sono persone che arrivano da quella parte quindi non dall'Africa subsahariana ma dall'Afghanistan sono kurdi dall'Iran quindi da quella parte la composizione esatto è diversa per quanto riguarda invece questo corridoio abbiamo visto all'interno del rapporto che ovviamente alla luce della guerra del conflitto in Ucraina abbiamo rivisto anche persone che arrivano per motivi ovviamente umanitari sì sì i flussi dall'Ucraina sono proprio completamente un'altra storia nel senso che godono di un diverso trattamento legislativo quindi possono chiedere la protezione temporanea non devono entrare in modo irregolare nel nostro paese come succede per gli altri richiedenti asilo i primi tempi quando è scoppiata la guerra un anno fa si ipotizzava un flusso di arrivi intorno agli 800 mila in realtà abbiamo visto a oggi gli ultimi dati sono sui 178 mila persone con protezione temporanea quindi poi in realtà il flusso che è arrivato verso l'Italia nonostante l'Italia sia il secondo paese per presenza ucraina in Europa è stato molto inferiore alle aspettative un'altra domanda sempre guardando appunto al rapporto ISMO si evidenzia purtroppo e questo appunto è un dato drammatico ma di cui bisogna senza dubbio dar notizia che resta ancora alta la mortalità ovviamente sulle rotte migratorie di certo non parliamo di queste ultime che arrivano appunto per motivi umanitari sì è così noi ne parliamo solo quando ci sono dei grandi disastri quando il numero di morti che accadono tutti insieme è rilevante in realtà c'è un progetto di IOM che si chiama Missing Migrants che raccoglie il numero di vittime stimate perché è sicuramente una sottostima ci sono molte persone che muoiono sulle rotte migratorie senza che noi ne abbiamo mai notizia e secondo IOM il numero di morti sulle rotte migratorie è arrivato a circa 26 mila dal 2014 e se voi guardate il loro report ogni giorno o ogni due o tre giorni vi è notizia di qualche incidente sia lungo le rotte marittime ma anche lungo le rotte nel deserto le rotte migratorie per chi non può accedere a canali legali sono estremamente pericolose la mortalità è ancora molto alta certo un ultimo aspetto sempre restando ovviamente con i dati messi a disposizione dal rapporto si nota un'inversione di tendenza perché per la prima volta in 40 anni si registra una diminuzione del numero di alunni con background migratorio sì questo ha due motivi fondamentali il primo è che molti diciamo quello che diminuisce è il numero di bambini con cittadinanza non italiana e questo è anche dovuto al fatto che i loro genitori pian piano stanno diventando cittadini italiani e loro stessi acquisiscono la cittadinanza italiana acquisiscono la cittadinanza italiana d'altra parte invece abbiamo il calo demografico quindi stanno diminuendo gli alunni in generale e diminuiscono anche gli alunni stranieri e con background straniero questo è qualcosa a cui dobbiamo secondo me abituarci perché le corti diciamo il numero di ragazzini nati è ogni anno più più basso gli stranieri non sono non sono fuori da questo tipo di trend quindi anche il numero di nati stranieri ogni anno diminuisce qualcuno nel frattempo diventa italiano quindi magari nasce straniero ma diventa italiano nel momento che entra nelle nostre scuole però il numero di allievi sia italiani sia stranieri sarà sempre meno minore questo è dovuto esatto al calo dell'eografico è l'inizio di una storia uguale sì sarà sempre così qui dobbiamo abituarci esatto grazie grazie per essere stata con noi e per aver spiegato alcuni aspetti appunto del rapporto ISMO Olivia Elisa Ortenzi responsabile del settore statistica ISMO grazie e buon lavoro e noi continuiamo a parlare di migranti perché lo abbiamo visto attesa la visita del capo dello Stato Mattarella sul appunto a Crotone per celebrare per far visita a coloro a quanti si stanno stringendo oggi nel dolore delle vittime dell'ultimo drammatico naufragio stiamo sull'Ansa con un articolo aggiornato Mattarella a Crotone oggi appunto lo sappiamo andrà anche Ellie Schlein nell'omaggio alle vittime del naufragio il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio nelle acque dell'imbarcazione sulla quale viaggiava un gruppo di migranti avvenuto domenica mattina nelle acque antistanti steccato di Cutro il naufragio del natante partito dalla Turchia ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone tra cui anche donne e bambini il capo dello Stato che è atterrato all'aeroporto Sant'Anna di Isola Caporizzuto ha raggiunto in auto l'ospedale San Giovanni di Dio dove sono ricoverate 15 persone superstiti del naufragio il presidente ha accolto all'arrivo da alcuni applausi all'ingresso dell'ospedale è stato accolto dal commissario straordinario dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone Simona Carbone dal direttore sanitario Lucio Cosentino che lo hanno accompagnato all'interno dei reparti successivamente Mattarella si recherà al poco distante Palamilone la struttura sportiva già gremita di persone dove sono state sistemate le bare dove incontrerà i parenti e renderà omaggio alle vittime della tragedia anche la segretaria del Partito Democratico Ellie Schlein oggi sarà a Crotone insieme ad una delegazione di parlamentari Dem anche Schlein si recherà appunto al Palamilone per rendere omaggio alle vittime del naufragio non rilascerà dichiarazioni alle stampa comunica in una nota appunto il Partito Democratico questa appunto la giornata che riguarda scandisce quella che sarà la visita del capo dello Stato Sergio Mattarella per il naufragio dei migranti appunto a Crotone ha visitato i superstiti 15 all'interno dell'ospedale e poi si recherà appunto alla Palas Porta che ospita invece le bare delle vittime torniamo a Milano da Silvia Sì Vittoria siamo qui con un residente del quartiere allora nuovo stadio sì nuovo stadio no cosa ne pensa? È difficile dare una risposta a San Siro siamo legati in una maniera esagerata io di fondo otterrei per un San Siro rimodernato dicono che non si può a questo punto non si può fare a meno di avere uno stadio di proprietà perché ormai il discorso bilancistico disponibilità finanziaria è il cuore pulsante di qualsiasi società per poter essere competitivi e allora stadio nuovo sì Ecco lei mi dice lo vede addirittura dal suo terrazzo che cosa rappresenta per voi lo stadio di San Siro? Non lo so penso che dopo il Duomo sia il tra virgolette monumento più visitato del Milano io corro qui più o meno tutti i giorni e tutti i giorni trovo decine di persone che fotografano si mettono in posa esatto è un simbolo difficile poterci rinunciare però lei è interista il club nerazzurro si dirige verso Rozzano cosa ne pensi? ho letto che si dirige verso Assago un peccato perché Assago non è Milano però capisco anche che magari trovare un'area senza vincoli come quella di Assago che pare ho letto sia di proprietà dei Cabassi abbia già qualunque tipo di permesso per poter operare cosa vuoi dire i tempi sono stretti va bene così d'altronde c'è il forum andiamo a vedere l'Olimpia andremo a vedere l'Inter di vicino cosa rappresenta per voi tifosi lo stadio Meazza? lo stadio Meazza è la casa è la casa dell'Inter e del Milan dalla Sartiburi Sacchetti Bedin Guarneri Picchi Germansolo Dominghini Suarezze Corso in poi è questo grazie la lasciamo andare grazie grazie a voi buona giornata grazie Silvia intanto sulla pagina online del Corriere della Sera la diretta video il presidente Mattarella che fa visita ai feriti del naufragio a Crotone lo abbiamo visto ai 15 superstiti che si trovano ricoverati in ospedale poi successivamente sarà la volta del Palasport dove invece si trovano appunto i parenti delle vittime del naufragio intanto cambia l'apertura online del Corriere vediamo domande e risposte con il super bonus ecco chi resta senza incentivi e chi potrà avere ancora la cessione dei crediti Giorgetti dice tolta una droga illusione finita chi resta senza bonus edelizi pensionati con redditi bassi che hanno già detrazioni che li portano nella no tax area o persone con redditi magari corposi ma non imponibili IRPEF ad esempio forfettare IVA la casistica all'interno dell'articolo è possibile appunto individuare i diversi casi intanto ecco lo vediamo le immagini del Palamilone dove è allestita ovviamente si trovano in questo momento i familiari delle vittime del naufragio e da appena pochi secondi è entrato anche il capo dello Stato cambiamo argomento con una notizia che riguarda invece la siccità non abbiamo parlato ampiamente colpita in maniera seria anche la Lombardia soprattutto la Lombardia le parole di Picchetto che alla luce dell'ultimo vertice ieri a Palazzo Chigi proprio sull'emergenza idrica sull'emergenza siccità e l'ipotesi di creare una cabina di regia permanente oltre nominare un super commissario un commissario straordinario per far affronta questa emergenza le parole l'aggiornamento è che potrebbero esserci invece più commissari per la siccità serve dare poteri a qualcuno per superare i passaggi burocratici potranno esserci più responsabili per quanto riguarda le opere in tutti quei casi in cui bisogna intervenire d'urgenza sull'emergenza siccità credo che ci possano essere ancora più commissari per quanto riguarda le opere la questione del commissario riguarda la nomina di tutti quei casi in cui bisogna intervenire d'urgenza e bisogna dare i pieni poteri a qualcuno che possa superare tutti i passaggi burocratici la cabina di regia invece consiste nel mettere assieme tante competenze spezzate tra i ministeri e le regioni per accelerare sul tema queste appunto le parole del ministro dell'ambiente Picchetto che ha parlato è tornato sul tema energia ieri appunto l'incontro a Palazzo Chigi si parlava della nomina di un commissario straordinario e abbiamo visto che in realtà secondo le parole appunto del ministro potrebbero essere più commissari ovviamente una figura che sarebbe in grado di superare tutti quei passaggi burocratici che inevitabilmente comportano tempi più lunghi tempi maggiori per poi riuscire a mettere azioni concrete sulla situazione e ancora invece si spostiamo all'economia l'abbiamo visto per quanto riguarda i dati Istat su inflazione e su scusatemi disoccupazione adesso parliamo invece dell'inflazione sempre con i dati Istat a febbraio scende al 9,2% con la flessione dei prezzi energetici ma accelerano quelli alimentari a febbraio si consolida la fase di rapido rallentamento dell'inflazione secondo le stime preliminari dell'Istat l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività all'ordo dei tabacchi registra un aumento dello 0,3% su base mensile del 9,2% invece su base annua da più 10% nel mese precedente il rallentamento si deve alla flessione su base annua dei prezzi dei beni energetici regolamentati e alla decelerazione di quelli degli energetici non regolamentati aumentano in accelerazione invece si legge ancora i prezzi degli alimenti lavorati da e non lavorati e vediamo appunto un più 14,9% più 16,2% e poi da un più 8% a un più 8,4% e torniamo ancora a Lanza con la notizia appunto di apertura Mattarella giunta a Cotrone la visita ai superstiti fiditi il Presidente della Repubblica rende quindi omaggio nella Camera Ardenta alle vittime del naufragio che ha provocato la morte accertata al momento di 67 persone un numero ancora imprecisato di dispersi oggi è inoltre attesa lo abbiamo visto nelle prossime ore la visita anche della neosegretaria del Partito Democratico Ellie Schlein e intanto torniamo anche alla guerra lo abbiamo accennato all'inizio della trasmissione bilaterale in India della Premier Meloni che dice qui strada giusta per una pace in Ucraina intanto però non si fermano i bombardamenti missili russi su Zaporizia tre morti Zelensky parla di atto di terrore siamo in chiusura torniamo a Milano da Silvia sì sono qui con una residente di Milano quindi stadio nuovo sì o stadio nuovo no per quanto mi riguarda stadio nuovo no perché da quello che ho sentito comunque il rifacimento dello stadio è legato anche a un ristoramento della zona che secondo me a parte forse una piccola via che adesso non ricordo il nome qua dietro è già più che ristorata insomma qui ci sono delle abitazioni anche signorili quindi voglio dire una residenza abbastanza anche di lusso e lo stadio per quanto mi riguarda è già capiente così perché da quando è stato rifatto anni fa credo che oggi possa contenere qualcosa come 80.000 persone e quindi poi eventi ne fanno insomma a parte il calcio concerti insomma ogni due per tre c'è sempre casino qua cosa rappresenta per i milanesi lo stadio di San Siro cosa rappresenta vabbè è un simbolo assolutamente un simbolo poi per chi è tifoso è veramente qualcosa di importante insomma io non lo sono diciamo mio padre interista per cui diciamo che tipo interista ma io forse ho visto una partita mi ricordo ancora intercomo tantissimi anni fa bene bene la ringrazio di nulla Vittoria ti restituisco la linea per oggi da Milano è tutto grazie grazie Silvia grazie ai tuoi ospiti siamo in chiusura ma intanto volevo darvi un ultimo aggiornamento su quanto è accaduto appunto in Ucraina è salita a tre civili morti il bilancio dell'attacco missilistico russo sul condominio di dieci appartamenti a Zaporiscia nell'Ucraina meridionale lo scrivono i media locali spiegando che sei persone ferite sono state portate in ospedale ancora secondo i soccorretori ci sono ancora persone intrappolate sotto le macerie l'edificio è stato quasi completamente distrutto in seguito all'impatto più di dieci appartamenti dal secondo al quinto piano sono stati distrutti le case vicine sono state danneggiate dai detriti e dall'onda d'urta dichiarato la polizia il presidente ucraino Zelensky ha definito l'attacco notturno dell'esercito russo a Zaporiscia come un atto di terrore questo stato terrorista ovviamente riferimento alla Russia vuole trasformare ogni giorno in un giorno di terrore per il popolo ucraino ma il male non prevarrà nella nostra terra caccieremo tutti gli occupanti dovranno rispondere di tutto queste ancora le parole di Zelensky mentre anche la moglie del presidente ucraino Zelensky commenta su Twitter il bombardamento e dice la città resiste coraggiosamente l'esercito russo per rappresaglia attacca i civili nella notte è stato deliberatamente colpito un condominio tre peani sono completamente distrutti i civili sono morti continuiamo a cercare sotto le macerie condoglianza alle vittime non perdoneremo questa ancora la situazione la dura situazione che sta vivendo il popolo ucraino un conflitto ormai lo ribadiamo da tempo destinato a non finire purtroppo nel giro di poco il nostro tempo a disposizione finisce qui vi ringrazio per averci seguito vi ricordo che l'appuntamento con il TG più Today torna domani mattina mentre a partire dalle 12.30 l'edizione del telegiornale grazie per averci seguito una buona giornata grazie per averci seguito